...a gentile partecipazione per il suo intervento. Io mi presento, mi chiamo Valentina Cognini, sono laureata in conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e sto ora seguendo un corso di laurea magistrale in museologia presso l'Ecole du Louvre di Parigi e sono alumna del Collegio Internazionale Ca' Foscari di Venezia. Allora, ringrazio tutti i ragazzi che partecipano, vi do qualche indicazione tecnica per quanto riguarda la partecipazione. Vi chiederei di tenere telecamere e i microfoni spenti durante l'intervento, poi potranno essere riaccesi per eventuali domande, per un dibattito alla fine dell'intervento. Vi chiedo anche in chat di indicare, seguendo questo formato, la vostra presenza, di scrivere presente, due punti, nome e cognome. È molto importante seguire questo formato, presente, due punti, nome e cognome, ma penso che già lo sappiate, data la vostra partecipazione al festival in questi giorni. Intanto allora lascio la parola, io sarò la moderatrice dell'incontro insieme a Francesca Romana, a cui lascio la parola per la presentazione dell'intervento. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Romana Gregori, sono laureata in storia totale dei beni artistici musicali presso l'Università degli Studi di Padova, sono allieva della classe di Scienze Morali presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori. Sono qui per presentarvi un pochino l'incontro dal titolo Arte e Scienze nel ciclo affrescato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Ringrazio anch'io la professoressa Giovanna Valenzano per aver accettato il nostro invito. La professoressa è docente presso l'Ateneo Patavino, il Vicente Ordinario di Storia dell'Arte Medievale presso l'Università degli Studi di Padova ed è responsabile di vari progetti a livello internazionale, si è occupata di arte medievale con un occhio di riguardo per il caso Patavino, è attualmente membro di diversi comitati scientifici e ha redatto diverse schede per le enciclopedie di storia dell'arte medievale, ha pubblicato numerosi articoli in riviste internazionali e è membro sia dell'Academy of America che dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lette e Arti. È stata vice-direttrice della Scuola Galileiana di Studi Superiori e attualmente è pro-rettrice all'Università di Padova. Qualora non ci siano eventuali problemi tecnici, possiamo, penso, proseguire. Bene, allora io inizio io. Allora intanto vi chiedo un attimo che andiamo appunto in condivisione con il PowerPoint dove io appunto vi mostrerò lo vedete? Sì, perfetto. Ok, invece ho io un problema, scusate un attimo, che ho una cosa che non mi sparisce. Ok? Ecco, perfetto. Allora, il ciclo diciamo di Giotto è un ciclo molto importante, è un artista straordinario, da tutti è riconosciuto il suo capolavoro ed è appunto un'opera incredibile. Noi su questo artista abbiamo numerose monografie, anche recentemente negli ultimi cinque anni ne sono uscite otto, scritte anche in cinese, in giapponese, oltre che in russo, oltre ovviamente alle nostre lingue. Noi oggi ci concentreremo su alcuni aspetti specifici, in particolare il raggiungimento che Giotto compie proprio a Padova nella realizzazione dello spazio e nell'attenzione a determinate problematiche che rendono proprio il ciclo degli scrovegni ancora oggi al centro di importantissime ricerche, ma anche proprio di inconite. Ancora oggi, malgrado i numerosissimi studi che si sono susseguiti per tutto il corso del XIX e del XX secolo, nonché appunto negli ultimi anni, rimangono ancora tantissime inconite, proprio perché, come avremo modo di illustrare anche oggi, il ciclo nasconde tutta una serie di puntuali osservazioni che hanno dei riflessi molto concreti con quelle che erano le ricerche emergenti dell'epoca sia in ambito filosofico sia anche in ambito scientifico. Da questo punto di vista proprio il ciclo di Padova offre, proprio perché si è ben conservato all'interno dell'aula, esclusa appunto la parte presbiteriale, si è molto ben conservato, ma nello stesso tempo probabilmente il frutto proprio anche della presa di visione da parte di questo straordinario artista di un clima estremamente fervido come era quello all'interno dello studium, cioè dell'università medievale di Padova che insieme a quella di Parigi e a quella di Bologna costituiva nel corso del XIII secolo e quindi agli inizi del XIII secolo uno dei centri propri propulsori culturali della cultura occidentale. Noi siamo abituati anche in Italia a chiamare questa come cappella degli Scrovegni, cioè la cappella che è stata commissionata da Enrico Scrovegni, la cui fortuna, come è noto, è dovuta anche al fatto di essere stato inserito da Dante nella figura appunto anche di suo, nella figura diciamo di suo padre Reginaldo che Dante incontra appunto di cui si parla all'interno della Divina Commedia e che Dante appunto raffigura il padre come un usuraio. Oggi in realtà gli studi più recenti dovuti soprattutto a Silvana Collodo che ha insegnato a Padova per anni e che poi sono stati anche proprio resi noti in modo molto brillante dal volume di Chiara Frugoni l'affare migliore di Enrico si è messo in luce come in realtà il padre di Enrico Scrovegni era un banchiere in rapporto anche tra l'altro col vescovato, finanzia anche la costruzione del santo, quindi era inteso diciamo come usuraio come noi oggi potremmo parlare che tutte le banche sono usuraie, come anche alcuni di noi oggi ritengono. Ecco però di fatto era un uomo molto ben inserito all'interno della struttura padovana e non solo padovana perché è in grado anche di finanziare anche entità importanti al di fuori della città di Padova. Più complessa invece è l'identificazione di questa figura di canonico che tiene insieme il modellino della chiesa e anche qui è già un atto rivoluzionario perché Giotto per la prima volta mostra diciamo a figura intera il committente laico che è preponderante appunto Enrico degli Scrovegni rispetto al committente ecclesiastico su cui sono state fatte diciamo diverse ipotesi ma su cui ancora non è stata aggiunta non è stata raggiunta un'animità interpretativa da parte degli studiosi. Ecco anche da questa figura, da questo particolare noi vediamo già alcune complessità del linguaggio di Giotto per esempio le figure a cui il committente laico aiutato appunto da questo personaggio ancora oggi non del tutto identificato presentano il modellino della chiesa a tre figure queste tre figure erano state interpretate da alcune anche come figure di virtù come allegorie di virtù, fede, speranza, carità in realtà non è corretto proprio perché se noi guardiamo si tratta di due figure femminili con la corona e di una invece maschile proprio la presenza della coroncina non tanto dell'aureola perché l'aureola a volte è presente anche anche proprio nell'iconografia medievale a partire dall'undicesimo secolo per indicare le virtù ma proprio per la caratterizzazione il fatto che la coroncina sia solo in due figure e per la capigliatura noi capiamo invece che l'iconografia corretta è quella di individuare la Vergine Santa Caterina e San Giovanni ma anche vedete che questa piccola figura che sostiene la croce ancora oggi è oggetto di un dibattito e non è stata unanimamente diciamo interpretata questo è proprio per farvi capire come ancora oggi la cappella presenta degli enigmi e sia importante continuare a studiarla a conoscerla e malgrado ci siano moltissimi progetti in corso ancora oggi ci sono elementi che rendono necessario un ulteriore studio ecco qui ovviamente ho messo le varie ipotesi su cui non vi soffermo oggi come vi dicevo all'inizio cercheremo invece proprio di illustrare questo conseguimento di piena consapevolezza nella rappresentazione dello spazio e qui è importante ricordare che io userò il termine perspektiva nel senso proprio latino medievale cioè come scienza della visione quindi noi quando parliamo di perspektiva nel Medioevo dobbiamo dimenticarci di quello che siamo abituati dal liceo alla giusta celebrazione di Leon Battista Alberti della prospettiva rinascimentale che viene appunto teorizzata come unico punto di fuga ma noi useremo il termine perspektiva o prospettiva proprio come scienza della visione ed è effettivamente diciamo straordinario che quando io per la prima volta nel 98 sono potuta salire sui ponteggi durante il restauro eseguito dall'Istituto Centrale di Roma ho potuto osservare proprio da vicino alcuni aspetti che mi hanno permesso di comprendere proprio meglio come operava Giotto già da tempo la critica aveva appunto esaltato Giotto in quanto l'autore proprio di quella che viene considerata l'invenzione della scatola spaziale che egli ha già realizzato ad Assisi nelle storie di Sacco ma che persegue appunto a Padova quando realizza questi famosi interni di più nella Cappella degli Scrovegni noi troviamo proprio la osservazione di edifici da più punti di vista o anche da vicino da lantano celebra appunto la raffigurazione del Tempio del Tempio di Gerusalemme che viene raffigurato come erano quei resti di recinzione liturgica che Giotto poteva aver visto a Roma per esempio qui nella cacciata di Gioacchino da cui inizia proprio il ciclo oppure nella scena poi non immediatamente successiva ma poco dopo della presentazione di Diana appunto al Tempio ecco vi dicevo appunto che quando ero salita sui ponteggi ho potuto osservare quello che voi oggi potete guardare anche se vi collegate al sito Alta Definizione che potete vedere come Giotto realizza le architetture cioè attraverso la battitura diciamo di fili intrisi di colore rosso di Sinopia di cui noi riusciamo ancora a individuare i segni in queste linee appunto rosse battute che noi intravediamo al di sotto proprio del colore pittorico laddove lì è un pochino diciamo caduto o nei margini ecco vedete che in questa area noi vediamo dei tentativi diversi ce ne sono tre in cui Giotto aveva fatto diciamo delle prove per disegnare questa struttura che nella realtà è ortogonale ma che appunto viene vista in modo diverso quindi ci accorgiamo che gli arriva proprio a una definizione della perspettiva in modo del tutto empirico ed effettivamente seguendo il corso degli scrovegni noi vediamo proprio che dall'alto dalle prime scene del registro del primo registro quello più in alto fino all'ultima scena noi abbiamo una progressiva consapevolezza della realizzazione degli oggetti spaziali tanto che nella scena poi ultima di questo primo registro con la cacciata dei mercanti vedremo che egli non ha più tentennamenti è in grado proprio di disegnare i vari aspetti ormai con piena consapevolezza io non mi soffermo qui sui le fonti archivistiche ve le ho solo segnalate ricordando anche che a queste dobbiamo aggiungere poi quelle che riguardano i restauri sia presso l'archivio delle soprintendenze del Veneto sia presso l'archivio centrale dello Stato di Roma dove si trovano importanti documenti proprio relativi alle vicende conservative ecco dalla lettura diciamo di questi documenti più importanti noi abbiamo i dati fondamentali che qui vi ho riassunto cioè l'acquisizione del terreno dove sorgeva questo palazzo della Smini nel 1300 il permesso di poter costruire una cappella privata e poi questa importante indulgenza concessa appunto da Benedetto XI nel primo marzo 1304 mentre tutti poi ricordiamo anche la data di consacrazione dell'edificio del 25 marzo del 1305 ecco in base anche alle giornate dipinte da Giotto che sono state individuate intorno a circa 500 diciamo giornate che però potrebbero ridursi anche a 300 si ritiene proprio che la cappella sia stata dipinta tra 1303 e 1305 ecco ma il punto su cui intanto io volevo proprio richiamare la nostra attenzione è sulla raffigurazione di questi due spazi questi due spazi che sono stati oggetto di attenzione addirittura già dalla fine del 700 poi nel corso dell'800 erano stati chiamati come ripostigli da cavalcaselle ma già anche studiosi tedeschi abbiamo dei testi del primo dei primi anni anche proprio dell'800 sia in tedesco che in italiano che si interrogano su queste strutture e lo stesso allora direttore dei musei civici del museo civico di Padova Moschetti dice che sono appunto delle allegorie di cui è difficile determinare il significato il primo a chiamarlo con un termine che spesso viene utilizzato che è quello di Coretti è stato Fiocco nel 1937 che poi insieme a Longhi ha costituito in un bellissimo articolo di Longhi Giotto Spazioso che ha avuto molta fortuna e che ha avuto proprio il merito di richiamare queste importanti acquisizioni che Giotto ottiene nella realizzazione dello spazio ecco in realtà poi è stato anche supposto che questi Coretti vogliano raffigurare un transetto che era un progetto diciamo di Giotto che poi non viene realizzato io ho contestato questa ipotesi ho dato una spiegazione diversa ma quello che qui mi preme sottolineare è che invece secondo me qui è importantissimo che noi abbiamo per la prima volta una raffigurazione nel medioevo di uno spazio senza figure cioè per la prima volta nella storia del pensiero occidentale figurativo della raffigurazione noi all'interno di un percorso di storia sacra abbiamo in un punto diciamo importantissimo verso la zona orientale la raffigurazione di due spazi vuoti per questo anche giustamente alcuni avevano richiamato per esempio Weig l'idea che potessero annuire a due spazi sepolcrali proprio perché noi qui abbiamo la tomba di Enrico Scrovegni e che quindi visivamente annuivano al senso proprio di cappelle sepolcrali ecco ma al di là del loro appunto significato più recondito noi qui da un punto di vista figurativo abbiamo la raffigurazione di uno spazio vuoto uno spazio senza figure che assume un significato straordinario visivamente cioè se noi guardiamo quella parete voi vedete che quasi il nostro occhio è catturato da questa raffigurazione e quindi secondo me non è senza significato che proprio qui a Padova si raffiguri per la prima volta lo spazio vuoto nel momento in cui proprio Pietro d'Abano che noi sappiamo che è presente è ritornato da Parigi ed è già presente a Padova stando alle ultime ricerche già nel 1303 e che teorizzava contro la filosofia aristotelica l'esistenza dello spazio vuoto ecco è interessante che qui proprio Longhi aveva sottolineato la bellezza di questo cielo azzurro tenuo e biavo di manzoniana memoria per dire come Giotto era attento a un aspetto proprio di un cielo fisico da cui qui scriveva lo studioso sembra di vedere da un momento all'altro passare le rondini degli eremitani ecco in realtà vedendo appunto da vicino salendo sulle impalcature ma vedendo adesso anche con queste nuove campagne fotografiche che noi abbiamo a disposizione vediamo che qui ci sono delle tracce di azzurrite per cui anche questo vetro diciamo di questa bifora era come quello di quella corrispondente sulla sinistra in realtà coperto di azzurrite quindi in origine non era questo cielo bavio decantato da Longhi ugualmente però è importante perché noi vediamo come Giotto è attento anche nella resa di quelle parti che poi non dovevano essere cancellate dovevano essere ricoperte dagli strati definitivi diciamo della pittura della stesura pittorica è attentissima allo studio come vedremo per esempio nelle raffigurazioni dei panneggi ed è quindi qui attento alla resa di uno studio più atmosferico in una parte che poi era consapevole andava coperta per rispondere a quelle che erano probabilmente le esigenze della committenza ma anche del vedere comune che voleva un cielo azzurro di azzurrite e non appunto di lapislazzuli come alcuni erroneamente hanno scritto ma che di fatto a occhio nudo l'azzurrite o il lapislazzulo non è di fatto distinguibile ecco che quindi secondo me noi vediamo in questi corretti proprio una tensione da parte di Giotto di voler raffigurare dipinta l'architettura attraverso una difficoltà su cui noi ancora oggi ci confrontiamo cioè l'esigenza di raffigurare in modo appunto prospettico gli edifici noi oggi arriviamo attraverso dei bellissimi rilievi anche 3D che si muovono ma il percorso attraverso questa scienza diciamo della visione trova proprio le sue origini qui a Padova da un punto di vista figurativo di rappresentazione qui a Padova proprio agli inizi del 300 ricordando appunto che a Padova era stato anche un celebre alunno Vitelo che pure aveva scritto dati molto importanti e qui anche io avevo messo proprio a confronto questo rilievo recento realizzato dall'Istituto Centrale del Restauro di Roma proprio per una pubblicazione dell'anno scorso con quello invece appunto di un rilievo realizzato alla fine dell'Ottocento vedete nel 1871 da benvenisti Grazielli Lava realizzato proprio per il comune di Padova va per dare una prima diciamo dei restauri un documento importante di come si trovava la cappella in quel momento ecco questo è un altro punto vedete la raffigurazione appunto della nascita di Gesù in cui noi vediamo tutto quello che vi annunciavo prima questo mantello doveva essere tutto coperto di azzurrite ma di fatto Giotto proprio per la caduta dell'azzurrite noi vediamo come ha potuto disegnare a sanguigna cioè di fatto con come se fosse un disegno a sanguigna di studio in realtà qui non con la sanguigna ma perché siamo in affresco con la sinopia con la terra rossa le ombreggiature proprio per studiare meglio il panneggio e qui noi vediamo come Giotto raffigura la struttura della capanna da sotto in su quindi qui siamo già nel registro successivo dove non ha bisogno diciamo di tentativi rispetto a che abbiamo visto prima nella scena di Gioacchino dal Tempio ma va a tracciare con sicurezza queste linee architettoniche nella scena successiva noi vediamo la stessa capanna vista da più lontano quindi anche questo studio della visione ravvicinata o meno di cui discutevano appunto i filosofi e gli scienziati dell'epoca in cui abbiamo anche una raffigurazione della stella cometa ecco anche qui dobbiamo stare attenti che a volte tra una immagine e un'altra dovremmo sempre vedere le opere dal vero vedete da questa bellissima immagine noi vediamo che abbiamo delle parti appunto in rosso su cui poi vi è la lamina dorata cioè quindi proprio la lamina d'oro in questo caso usata per raffigurare la stella e la cometa con una parte anche che finisce in nero ecco su questa raffigurazione Roberta Olson su un importante contributo del 1979 aveva proprio sottolineato come secondo lei qui doveva essere raffigurata la cometa di Halley ed è importante perché per esempio uno studioso locale Bellinati invece sosteneva che si trattasse non di una raffigurazione reale ma invece di una rappresentazione simbolica perché dipinge la chioma con i raggi e le linee dorate ecco che invece in realtà sono proprio gli astrofisici che hanno sottolineato anche proprio in un testo divulgativo poi come quello di Margherita Hack in Notte di Stelle ma sulla base di studi più importanti che sono avvenuti proprio nel corso del 1985 e poi successivamente in cui si è visto proprio che Giotto dà una raffigurazione secondo quello che diceva Pietro d'Abbano cioè che delle esalazioni sacche calde si infiammavano dopo un grande fuoco questa è la spiegazione della stella cometa per cui la materia perde il colore rosso e si tinge di nero il fatto che ci sia anche l'oro in lamina non vuol dire che fosse una rappresentazione simbolica che non tenesse conto invece di quello che era negli studi dell'epoca proprio perché noi siamo fortunati che è stato ritrovato nel 2003 un testo straordinario che si riteneva perduto che è l'Officiolum di Francesco da Barberino è stato battuto in un'asta da Cristi a Roma tra l'altro era stato presentato anche a Padova in una mostra dedicata a Petrarca un'accordata dell'allora sindaca di Padova la Giustina d'Estro insieme a degli imprenditori avevano cercato di mettere insieme le cifre per comprarlo proprio perché sappiamo che è un'opera che è stata eseguita da Francesco da Barberino figura importante di intellettuale e poeta Fiorentino ma che è stata eseguita proprio a Padova sappiamo per certo perché lo dice lui che è stata scritta a Padova nel primo decennio del Trecento e quindi sarebbe stato importante sarebbe stato bello riuscire ad acquistarlo a Padova e magari tenerlo presso la biblioteca civica e quindi poterlo consultare e vederlo ma non abbiamo raggiunto la cifra e quindi c'è ancora un possessore privato ecco in questa opera che raccoglie diciamo delle preghiere oltre nella parte finale anche un trattato allegorico noi vediamo qui la figura vedete dell'eclissi di luna in cui il sole ha ugualmente raffigurato come una palla diciamo di fuoco vedete che ha i raggi dorati secondo la convenzione quando comunque qui abbiamo proprio una raffigurazione scientifica dell'eclissi vedete di luna che proietta il buio oscura completamente la terra ecco su questo ficciolo recentemente è stata fatta anche una una edizione un'edizione critica o meglio diciamo un testo di commento critico insieme a quello che è proprio una riproduzione di tutto il codice per cui pur essendo finito in mano privata noi possiamo sfogliare il facsimile e quindi renderci conto di tutte queste opere il nome di Francesco da Barberino era già legato a Giotto già a partire diciamo dalla fine degli anni settanta e degli anni ottanta perché in un'altra opera che invece era ben conosciuta di quest'autore documenti d'amore egli proprio parlando dell'invidia dell'invidia amorosa poi parla dell'invidia in latino appunto scrive che come l'invidioso sia bruciato all'interno all'esterno dalle fiamme proprio dall'invidia ce l'ha dimostrato qui vedete il testo latino ce l'ha dimostrato in modo straordinario vedete Optime Pinkxit Giotto a Padova nella cappella dell'arena quindi noi sappiamo che già Francesco da Barberino conosceva l'opera di Giotto ed è importante che appunto qui in questa straordinaria invenzione che fa Giotto con questa lingua da cui esce un serpente e questa figura come vecchia megera vi siano delle orecchie lunghe e appuntite che secondo il testo della fisioniomica di Pietro D'Abano già proprio che sosteneva appunto che i volti degli uomini raffigurassero gli aspetti interni della personalità e che diceva che per esempio gli uomini invidiosi avevano orecchie lunghe e appuntite e del resto abbiamo un altro testo di Pietro D'Abano che proprio nel sostenere come appunto i volti degli uomini raffigurano le passioni un testo scritto a Parigi alla fine dell'ottocento scusate alla fine del 200 nel 1298 Pietro D'Abano proprio dice che come i volti riflettano le passioni l'ha mostrato Giotto che ha dipinto la scena degli apostoli spaventati dalla tempesta a Roma quindi è importante che Pietro D'Abano che scrive quindi a Parigi cita il mosaico della navicella realizzata per l'atrio di San Pietro da Giotto quindi non parla appunto ancora di Padova perché Giotto Padova non aveva ancora dipinto ma parla di un'opera straordinaria quindi è importante questo per vedere di come sia Pietro D'Abano conosceva Giotto almeno per la fama e che il rapporto si possa individuare già nella cappella degli scrovegni prima della realizzazione degli affreschi del palazzo della ragione le personificazioni dei vizi e delle virtù sono accompagnate da dei titoli in latino recentemente oggetti di un importantissimo studio da parte di Giulia Manati che insegna la scuola normale di Pisa da cui lei proprio nell'invidia si dice che l'invidia con i suoi attributi è stata dipinta lei dice dall'industria di una dotta mente scrive la Manati infatti lei prende proprio questa industria doc de mentis per il suo testo che io qui vedete davanti a me ma che io tradurrei invece questo industria come un'abilità diciamo creativa proprio perché in italiano industria ha un significato diciamo un po' diverso più tecnologico invece nell'ambito proprio della filologia appunto latina noi potremmo proprio tradurlo come nell'abilità creativa di una dotta mente dove c'è un'abilità creativa che si fonda sulla conoscenza scientifica ecco è importantissimo vedete che Francesco da Barberino era stato chiamato anche proprio per altre immagini difficili da identificare che noi troviamo all'interno della cappella degli Scrovegni nella porta da cui accedeva proprio la famiglia degli Scrovegni che era legata al palazzo cioè queste due figure di non facilissima identificazione o meglio questa più facile da identificare perché si collega un'iconografia molto diffusa nei libri dei salmi quella dell'Insipies ma invece di questa figura soltanto nel corso del Novecento si è stati in grado proprio di identificarla questa figura appunto che si collega a quella dei salmi ma anche a quella appunto vedete anche del gallo cioè la figura appunto dello stolto dei salmi ma la figura delle feste del gallo che sono state descritte anche per esempio magistralmente da Victor Hugo ma se voi avete ricordate anche di avere visto il bellissimo film di Walt Disney la cattedrale di Notre Dame proprio c'è questa festa straordinaria del gallo dove appunto il personaggio più fragile abbandonato un mendicante per un giorno viene visto come viene festeggiato come un re ecco qui avete appunto l'iconografia di due esempi vi ho messo di figure di salmi superbi esemplari della miniatura del 200 parigina ma invece vi dicevo molto più complessa l'identificazione di questa figura che è stata sciolta proprio grazie al testo dei documenti d'amore di Francesco da Barberino la cui copia è conservata presso la biblioteca vaticana in cui appunto già Eva Froinvich aveva appunto interpretato questa figura come quella della circospezio proprio basandosi su questo passo di Barberino qui vi ho messo il testo latino in cui egli dice che vedrai che questa signora dirige lo sguardo verso ogni singolo oggetto con i mezzi in cui è possibile essere visto e percepito onde colui che vede appunto con gli occhi rettamente può dirsi ha ben visto circospetto quindi si celebra questa visione e già Francesco appunto da Barberino scriveva io per cannellas ostenditot quasi posse vedere cioè faceva riferimento a questo strumento delle cannelle queste cannelle sono usate dagli astronomi medievali come anche nell'antichità non era ancora stato scoperto il canocchiale poi perfezionato da Galileo e quindi usavano dei tubi di legno anneriti per concentrare la vista su una porzione di cielo quindi Francesco da Barberino lui esalta questa circonspezio che ha uno sguardo diciamo circolare fatto di tante cannelle diciamo di tante trombe per una vista addirittura a 360 gradi questo diciamo ha permesso di comprendere come quella figura dipinta da giotto deve essere intesa come una allegoria della circonspezio ecco quindi vedete come all'interno delle pitture diciamo di giotto di alcune scene raffigurate da giotto si nascondono dei significati molto complessi per comprendere i quali bisogna conoscere la filosofia medievale la scienza medievale e quindi giotto è un grandissimo maestro non soltanto per le sue invenzioni o anche perfezionamento tecnico ben celebrati dal trattato di Cennino Cennini sulla pittura in cui dice come devono essere realizzate le rocce oppure come appunto si usano i colori nel caso della fresco nel caso della tavola e noi sappiamo appunto dall'introduzione di Cennino Cennini che gli dice di aver imparato la tecnica proprio da Gagli che a sua volta l'aveva appunto da Taddeo Gaddi l'aveva imparata da Taddeo Gaddi che l'aveva imparata appunto da giotto perché lavorava nella sua bottega ecco questo è importante proprio perché ci aiuta a comprendere come anche all'interno del palazzo della ragione su questo noi non ci soffermeremo ma le cui fonti ci dicono che era stato dipinto su progetto di Pietro D'Abbano per raffigurare proprio il movimento dei cieli come era stato studiato da Pietro D'Abbano questo che sia stato dipinto in origine da giotto noi lo sappiamo da varie fonti anche proprio contemporanee per esempio dall'Aviso Egidis Regi Pataglie scritte da Giovanni da Nono un giudice che ha lavorato proprio nel palazzo della ragione e che alla fine dice proprio che il tetto il soffitto era stato dipinto in modo straordinario da giotto che aveva dipinto i pianeti e come questi si raffiguravano si riflettevano nelle attività umane la stessa pittura per il palazzo della ragione è ricordata da Riccobaldo da Ferrara e quindi oggi si pensa che nelle pitture che sono oggi presenti che sono state realizzate da Miretto e Stefano da Ferrara dopo il rovinoso incendio del 1424 riflettano in realtà le opere di giotto e ancora oggi ci sono dei progetti atti a verificare se per caso con delle tecniche invasive si possa vedere al di sotto diciamo delle pitture quattrocentesche ancora tracce della pittura conservata da giotto ecco si diceva appunto all'inizio che io ho fatto parte anche di progetti scientifici se avete voglia ve lo lascio qui nel powerpoint sui problemi conservativi noi abbiamo realizzato anche un filmato recuperando frammenti dell'istituto luce quindi un vero e proprio filmato che presenta anche degli elementi di novità in quello che è stato realizzato nel momento come salvaguardia dalla struttura quando c'era il pericolo che venisse bombardata quindi qui avete il link dove potete collegarvi il testo è sia in italiano sia anche in inglese e appunto come lettura io vi consiglio in generale per vedere le ultime ricerche questo volume La Cappella degli Scrovegni a cura di Rita Dejana che era responsabile di un progetto a cui ho partecipato ma ancora oggi invece fondamentale per secondo me capire gli aspetti più pittorici 18 è il volume di Bellosi del 1985 ecco vi ringrazio scusate se forse sono stata un pochino più lunga e siamo disponibili per le domande ringrazio la professoressa per il suo intervento che personalmente ho tratto veramente interessante e appunto invitiamo i ragazzi a porre delle domande potete porle preferibilmente a voce quindi potete prenotarvi in chat a quel punto accendere la telecamera e porre la domanda oppure se preferite potete anche scrivere la domanda in chat e noi la leggeremo alla professoressa aspettiamo se ci sono qualche domanda se c'è qualche domanda io forse anche posso vederle in chat no? sì 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 per comodità anche sul funzionamento della scuola se ci sono delle curiosità o delle richieste sì esattamente se non ci sono se per un momento non ci sono domande io vorrei anche porre una domanda alla professoressa proprio riguardo al suo intervento e mi ha molto colpito all'inizio dell'intervento la il fatto che lo scrovegni stesso venisse avesse delle non fosse piccolo come nelle altre rappresentazioni e questo come ha detto lei cambia un po' alla gerarchia dei personaggi in questo tipo di rappresentazione ci sono state fatte delle ci sono delle motivazioni dietro a questo cambio di gerarchia di grandezza dei personaggi e delle dimensioni o è un caso unico ci sono stati altri casi o c'è una una sorta di cambiamento delle gerarchie allora c'è proprio un cambiamento delle gerarchie che avviene per la prima volta in realtà con la con una committenza importante papale cioè nella Nicolò III che promuove appunto la costruzione del Santa Sanctorum viene raffigurato per la prima volta a figura quasi intera però diciamo lì è il caso diciamo di un papa quindi da una parte probabilmente anche in quel caso viene legata agli studi anche proprio di Vitelo e alla perché diciamo che anche lo stesso Vitelo in parte poi ripreso anche da Pietro D'Abbano noi a volte abbiamo un'idea appunto di un medioevo che è sottoposto rigidamente alla chiesa no ecco in realtà c'erano dei liberi pensatori anche allora e lo stesso Vitelo ripreso poi proprio da Pietro D'Abbano anche distinguono le verità della fede da quello che invece è l'esperienza concreta ecco per esempio entrambi dicono parlando della risurrezione di Lazzaro cioè se noi dobbiamo leggerlo con gli occhi della fede Lazzaro è stato risuscitato se noi dobbiamo vederlo con l'esperienza scientifica con lo studio del reale dobbiamo pensare che era un episodio di isteria collettiva ecco questo è importante per cui si pensa che la diffusione di questi pensieri di maggiore attenzione alla realtà però non abbiamo diciamo un testo che ci dice d'ora in avanti noi raffiguriamo il committente a figura naturale ecco quindi sono delle ipotesi che noi abbiamo fatto certo è che quindi la prima viene in un ambito di committenza straordinaria un papale Giotto il primo che lo riprende per un laico da questo momento noi lo troviamo abbastanza diffuso tra l'altro proprio all'inizio molto diffuso in area veneta quindi dai pittori veneti sia non so a Sanfermo a Verona ma anche per esempio con delle pitture di Paolo Veneziano per il Doge per esempio nella raffigurazione di presentazione che si trova a Santa Maria una tela che si trova nella sacrestia di Santa Maria Gloriosa dei Frari fino all'ultimo esempio poi a Padova dove abbiamo delle committenze anche femminili come quella di Buzzaccarini ed è il motivo per cui Padova già negli anni diciamo 80 del novecento è molto studiata anche proprio dalle studiosi americane che sulla sorta appunto di una rivendicazione di una storia dell'arte che guardi anche all'importanza della donna nel ruolo dei committenti Padova è diventata un po' un centro di oggetto di studi soprattutto appunto da parte di studiose americane sotto questo aspetto della committenza femminile ecco vedo che c'è qualcuno che dice che ha un paio di domande per cui sentiamolo subito Andrea Lecchi Buongiorno mi sentite? Sì Buongiorno grazie per la lezione molto chiara molto interessante allora avremo un paio di domande che riguardano due questioni diverse la prima riguarda più la sua lezione se non sbaglio a quello che mi ricordo quando ho studiato Giotto per l'anno scorso spesso egli si avvaleva degli aiuti della sua bottega e ora gli storici dell'arte come in genere gli studioli come fanno a comprendere dove sia presente la mano di Giotto ovvero quale sia appunto il discrimen che ci fa comprendere quali scene sono state dipinte da Giotto e quali invece presentano la mano di un suo aiutante questa è la prima domanda allora lei entra su un problema di capitale importanza esiste un volume anche molto bello un po' storico potremmo dire di Previtali che risale agli anni 60 che si intitolava proprio Giotto e la sua bottega Previtali che era un critico d'arte era allievo di Longhi ma in realtà di formazione marxista siamo negli anni 70 quindi allora va molto c'è una fase proprio della critica italiana che riprende una discussione che in realtà noi troviamo già anche nel XIX secolo quando già si parla anche del problema tra concezione artistica di un grande maestro e ruolo invece della bottega ecco gli storici dell'arte si basano soprattutto sull'analisi stilistica sulle cadute o meno di stile anche se non abbiamo diciamo poi di fatto dipende anche molto dall'attenzione diciamo del singolo studioso nel senso che proprio anche all'interno per esempio della cappella degli Scrovegni per esempio una scena come la trasfigurazione per Previtali che le ho citato era considerata un'opera di bottega la considerava poco riuscita oggi invece noi la guardiamo con un occhio diverso e pensiamo che invece sia un'opera in cui Giotto proprio cerca di quelle incongruenze che vedeva Previtali per esempio nelle figure degli angeli che sono più piccoli rispetto alle figure in primo piano derivassero proprio da una volontà di raffigurare la svolgersi di una scena quasi in modo realistica nello spazio ecco poi il problema diciamo della si pensa diciamo che Giotto inizi raffigurando quasi intere di sua mano ad Assisi le scene appunto delle storie di Isacco che io citavo prima che siano quasi una sua prova d'artista e che poi sulla base un po' appunto anche di questo laddove noi all'interno della cappella degli scrovegni ritroviamo certi aspetti più vicini no? dopodiché bisogna capire noi abbiamo informazioni questo è un problema che si pone anche voglio dire in tempi più avanzati come per esempio il problema della bottega di Raffaello noi sappiamo che anche Raffaello aveva moltissimi allievi no? è chiaro che però nel corso del Cinquecento noi abbiamo più documenti per cui è più facile discernere le varie personalità come per Indel Vaga Giulio Romano nel caso noi della bottega di Giotto siamo in maggiori difficoltà per cui per le opere più tardi quelle appunto di Firenze si riesce a individuare per Santa Croce a Firenze si riesce a individuare in alcune parti l'opera di Maso l'opera di Taddeo Gaddi perché abbiamo delle opere certe di Maso di Banco di Taddeo Gaddi e quindi le ravviciniamo per la cappella degli scrovegni è oggettivamente più difficile si pensa qui che Giotto comunque sia sovraintenda tutta l'opera e che agli aiuti siano erano appunto un po' la bottega che poi andava anche a porre diciamo il colore ma che siano sue appunto io vi ho mostrato per esempio quel disegno del panneggio nella figura della Vergine che quella sia sua proprio perché abbiamo delle parti di disegno che noi vediamo che dovevano poi essere coperte diciamo dall'affresco che trovano dei confronti per esempio anche con la croce di Santa Maria Novella che è considerata autografa dove le riflettografie ci hanno permesso di vedere il disegno sottostante quindi diciamo è col confronto visivo laddove noi non abbiamo della documentazione scritta che ti dice questo è fatto da questo e questo è fatto da quest'altro eh grazie e se posso fare ancora un'altra domanda più in generale diciamo riguardo lo studio della storia dell'arte all'università a me interessa molto questa disciplina però voglio dire ho anche altri interessi sempre su materi di carattere storico-letterato secondo lei perché varrebbe la pena scegliere proprio storia dell'arte ovviamente nelle sue declinazioni scienze delle lingue culturali varie a seconda dell'attenzione appunto è sempre molto difficile io posso dire che quando io ai miei tempi ero molto indecisa tra iscrivermi a filosofia e iscrivermi ad architettura ecco alla fine ho scelto storia dell'arte quasi come un compromesso io all'inizio non ero quasi neanche convintissima cioè nel senso che forse mi sarebbe più piaciuto iscrivermi a filosofia e mi sarei voluta iscrivere anche ad architettura per altri versi ecco non a caso cioè alla fine mi è sembrato un compromesso ma non ero convintissima della mia scelta in realtà poi mi sono molto appassionata e forse non è un caso che i miei studi principali sono proprio sull'architettura ecco è da recente che mi occupo un po' anche di pittura io sono nota soprattutto diciamo anche all'estero come studiosa di architettura diciamo è un po' difficile questo dire perché conviene una cosa o conviene un'altra in tutte le nella storia di tutti diciamo quando si fa una scelta ce ne si nega un'altra magari io a volte dico mi piacerebbe ancora quando vado in pensione studiare la filosofia ecco è un po' diciamo difficile certo che oggi diciamo la storia dell'arte è una disciplina che ha una sua autonomia dagli inizi del novecento che soprattutto negli aspetti appunto attribuzionistici se non si imparano fin dall'inizio è difficile impararli dopo cioè quindi ha degli aspetti un po' tecnici eh perché appunto io prima parlavo anche di altri studiosi come appunto anche Chiara Frugoni no? che è una storica ma tra l'altro anche lei in realtà si era laureata in storia dell'arte che i suoi studi diciamo riflettono più un interesse storico che un cioè sempre applicati all'arte ma non vanno per esempio ad approfondire quello che diceva lei l'aspetto della bottega ecco se uno è più interessato anche agli aspetti diciamo fattuali solo secondo me con un percorso storico artistico cioè quindi con storia tutela dei beni culturali prima con una laurea in storia dell'arte poi è in grado di approfondire anche questi aspetti eh ecco posso dire nei tempi non esistevano questi studi tutta la mia generazione no? io ormai vado verso i 60 58 59 anni adesso mi ricordo più bene ma devo compierne 59 esatto ne ho ancora 58 ma tutta la mia generazione si scriveva lettere magari con all'epoca le università erano Roma Bologna Firenze Siena Padova che avevano maggiori una maggior specializzazione nella storia dell'arte dove c'erano più esami di storia dell'arte poi con i nuovi corsi tutte le università oggi hanno corsi diciamo di storia dell'arte ecco lì l'importante è andare su università dove ci sono grandi scuole nella storia dell'arte secondo me appunto come Bologna Firenze Siena cioè vedere proprio dove ci sono grandi storici dell'arte se si ha questo interesse specifico grazie per la risposta chiedo ai ragazzi se ci sono altre domande allora non ci siano volevo fare una domanda se è possibile rialerciami la domanda precedente e cioè quanto sia stato possibile ricostruire la mano di Giotto all'interno delle storie di Sacco ad Assisi tramite l'intervento di Giotto all'interno della Cappella degli Scrovegni soprattutto in riferimento ai coretti di cui ha parlato Fiocco l'ha fatto ovviamente menzionare a lei sì allora diciamo che questo secondo me è proprio nel libro che io vi consigliavo di Bellosi egli ha proprio voluto dimostrare all'interno diciamo di un dibattico che è nato nel 1930 Giotto non Giotto questo testo famoso di Offrener ma che ancora oggi non si è mai sopito no? c'è ancora oggi ogni tanto qualcuno rilancia che le storie assisiate siano opera di un pittore romano che siano opera addirittura di Cavallini no? quindi Giotto cioè scusate Bellosi proprio ha voluto dimostrare diciamo sulla base proprio del confronto stilistico che le opere di Giotto degli Scrovegni su cui abbiamo delle testimonianze certe certe che è Giotto perché lì per fortuna abbiamo una serie di testimonianze storiche coeve che ci dicono che è di Giotto no? quindi è un caso raro molto molto importante cioè raro diciamo per i primi del Trecento abbiamo tante fonti che ce lo riportano no? e questo riguarda soprattutto quello che prima vi ho chiamato la scatola spaziale ecco diverso è un po' quello dei coretti perché effettivamente qui è un'invenzione padovana che non ha un rapporto così stretto pensate che in ambito anglosassone ancora fino a non poco tempo fa una studiosa che io conosco bene che vive a Londra Laura Jakobus che è ricercatrice appunto a Londra è più vecchia di me ma che per tutta la vita lei ha studiato solo Giotto cosa che noi per esempio non potremmo mai fare in Italia no? lei riesce a stare qui a Padova mesi interi riesce a volte io sono quasi invidiosa perché riesce a studiare più lei che viene da là che non che non io può andare in archivio può guardare ecco lei stessa considerava i coretti aggiunti successivamente non originali di Giotto ecco io credo a parte lei in realtà tutti li considerano opera di Giotto proprio perché vi è una concezione spaziale così matura che non può essere acquisita seppure da un grande artista senza arrivarci attraverso delle sperimentazioni noi diremmo no? quindi l'invenzione della scatola spaziale noi la vediamo ad Assisi la ritroviamo a Padova in quelle scene tipo appunto dell'annunciazione a Sant'Anna e poi la troviamo appunto nel registro se vogliamo più basso compiutamente lì dove abbiamo proprio una raffigurazione appunto di uno spazio ecco teniamo presente che dopo che egli ha raffigurato tra virgolette questo spazio vuoto poi noi abbiamo altri pittori che raffigurano a partire proprio per esempio da Taddeo Gaddi a Santa Croce ma anche lo stesso Vitale da Bologna a Udine raffigura oppure anche un altro maestro a Spilimbergo raffigura per esempio un armarium cioè una piccola nicchia liturgica dove ci sono la bottiglia per l'olio santo e per l'acqua per l'eucaristia quindi una sorta viene chiamata una prima natura morta in realtà non è una prima natura morta però da quel momento noi capiamo che anche la raffigurazione di oggetti potremmo dire viene sdoganata dal Medioevo che fino allora non li aveva rappresentati isolatamente e quindi anche questo ci fa capire che l'invenzione di Giotto era celebrata all'epoca e ripresa da altri artisti vedo che c'è un'altra domanda da parte di Adele vedo nella chat vorrei allarmi a questo discorso e vorrei chiederle qual è la più grande innovazione di Giotto che si vede ripresa anche dagli artisti immediatamente successivi perché a volte magari artisti come Giotto sono molto innovativi però le loro scoperte diciamo vengono considerate soltanto in un periodo abbastanza successivo e quindi certo è molto giusto quello che lei diceva e questo si lega forse anche a un'altra cosa cioè il fatto che Giotto abbia dipinto in varie luoghi dicevamo Riccobaldo Ferrarese questa testimonianza nella sua compilazio cronologie dice che ha dipinto a Rimini ad Assisi a Rimini a Padova per i Francescani poi a Padova anche nel Palazzo della Ragione e nella Cappella appunto dell'Arena ha dipinto a Firenze sappiamo che ha dipinto a Milano per i Visconti cioè quindi avendo sappiamo che è testimoniato appunto a Roma avendo realizzato opere in varie parti d'Italia il suo seguito è stato molto importante ha avuto un riflesso molto importante in tutta l'arte diciamo così italiana un riflesso però lei diceva una cosa molto giusta che non è che a volte si parla di influenza come se uno si prendesse l'influenza come se fosse un virus che uno si attacca cioè in realtà è importante anche gli altri artisti che recepiscono e che riprendono e a loro volta rinnovano ecco la fortuna di Giotto è stata anche proprio che il suo linguaggio è stato alcuni aspetti del suo linguaggio sono stati ripresi e riproposti migliorati reinterpretati per il corso di tutto il trecento di tutto il quattordicesimo secolo in più aree dell'Italia non soltanto centrale ecco non ho ricordato scusate prima che è testimoniato anche a Napoli cioè quindi ha esercitato una influenza uso questo termine che prima ho criticato ma anche proprio perché poi è stato recepito e reinterpretato da altri artisti nei vari luoghi e quindi ha avuto una grande importanza poi diciamo all'interno della storiografia italiana anche francese diciamo Giotto è celebrato come un artista medievale mentre all'interno della cultura anglosassone sia in Inghilterra che negli Stati Uniti Giotto è considerato invece l'innovatore l'iniziatore dell'arte moderna infatti io diciamo che a volte se devo andare a un convegno diciamo negli Stati Uniti sono iscritta sia la Medieval Academy per le parti magari su cui ho lavorato del IX secolo del XII secolo ma invece quella della Renaissance parte proprio da Giotto cioè da Giotto e va in avanti proprio per il ruolo che ha avuto e per le riprese che gli artisti successivamente hanno esercitato quindi è molto giusto quello che lei diceva Dele grazie la sua risposta forse abbiamo tempo per un'ultima domanda se qualche dubbio sì ringrazio la professoressa per l'intervento e volevo fare una domanda proprio riguardo adesso mi colpisce sempre nella storia dell'arte il dialogo che si instaura tra le figure le immagini e le idee e i testi che circolano nell'epoca e anche nel suo intervento lei ci ha in un certo senso ci ha condotto nella Padova del Trecento alla ricerca anche delle idee che potevano aver influenzato Giotto e quindi io proprio volevo chiedere in una ideale biblioteca di Giotto per dirla così con questa metafora quali testi hanno avuto un ruolo più importante quali filosofi quali pensatori hanno più influenzato il suo modo di intendere di intendere l'arte e poi di presentare le figure ecco questo è un aspetto un po' difficile nel senso che allora intanto premettiamo che difficilmente Giotto aveva dei libri no? perché qui siamo ancora in una fase nel Medioevo in cui i libri sono in queste date proprio inizio Trecento sono ancora in pergamena quindi per libro bisognava fare fuori un greggio cioè quindi era molto più costoso avere un libro di pergamena che non farsi affrescare un intero palazzo ecco questo è molto importante da tenere presente quindi semmai i libri forse poteva averli un committente noi per esempio sappiamo che Enrico Scroveni siamo fortunati perché nel suo caso noi abbiamo l'elenco lui è molto preciso abbiamo il suo testamento è molto preciso nelle sue volontà testamentarie e abbiamo anche l'elenco dei suoi beni e quindi sappiamo che libri aveva e quindi per esempio sappiamo che aveva un libro scritto per Filippo il Bello di Parigi in cui si esalta l'opera dei committenti che spendono tanti denari per fare opere belle ecco quindi capiamo che per questo ruolo di grande committente per cui poi lui si fa raffigurare a figura intera quindi conosciamo diciamo di più il suo committente che non l'artista certo è che però Giotto questo lo conosciamo attraverso diciamo il boccaccio in cui dedica anche proprio una novella ne fa protagonista che ci dice che era un uomo ci dice alcune cose diciamo sul carattere di Giotto che appunto era un uomo che amava gli scherzi che non era molto religioso cioè quello che noi pensiamo di questo artista è che fosse comunque in grado di poter parlare con che possa lui si avere dialogato con Francesco da Barberino e con Pietro d'Abano e che quindi loro possono avergli mostrato diciamo delle cose o avere discusso con lui ecco dobbiamo ricordare che in questo momento del Medioevo finché non si diffonde la carta dalla fine del Trecento e poi soprattutto nel Quattrocento la cultura scritta è destinata a pochi c'è un linguaggio orale a cui noi ci stiamo perdendo perché noi anche con l'uso di internet ormai io stessa mi accorgo che ho molta meno memoria rispetto a una perché sono c'è una forma un po' di pigrizia mentale io recupero tutto non ho bisogno di studiarlo a memoria ecco faccio un esempio io da piccola mi obbligavano a studiare delle poesie a memoria per me è bene rodari ma una volta che mi sono trovata che volevano che imparassi un canto del purgatorio a memoria non ci sono mai riuscita era uno sforzo eccessivo per me mio nonno che non era un letterato è morto che io ero bambina ma mia mamma mi raccontava che sapeva tutto l'inferno a memoria cioè noi abbiamo perso un po' l'idea della cultura ecco mentre presso gli antichi ancora nel medioevo c'era una cultura mnemonica molto forte quindi ecco io non credo che Giotto avesse dei libri però probabilmente era in grado di poter discutere questa è un'idea che abbiamo molto noi studiosi italiani proprio perché c'è un bellissimo libro di Baxan dal Giotto e gli umanisti questa esaltazione che fanno Dante Boccaccio Petrarca di Giotto ci illustrano ci designano ci mostrano ci dipingono potremmo dire metaforicamente un artista colto mentre nella storiografia anglosassone soprattutto americana noi abbiamo sempre questa idea che ci sia il concepteur cioè colui che ha disegnato il programma figurativo quella figura che io vi ho detto enigmatica il committente ecclesiastico il canonico che tiene il modellino per esempio appunto alcuni hanno pensato che sia fosse Alberto da Padova proprio perché hanno visto nel ciclo riflessi agostiniani e quindi era un famoso filosofo frate agostiniano del convento degli eremitani ecco io non credo in questa ipotesi ecco qui Boccaccio anche ci diceva che Giotto aveva scritto una poesia e un'allegoria sulla povertà ecco sarebbe interessante adesso una ricerca che sta facendo proprio presso la normale Giulia Manati che ha richiamato l'attenzione sui titoli sotto appunto le i vizi e le virtù cioè noi non sappiamo ancora chi è l'autore di questi testi poteva essere Giotto cioè io mi sono occupata anche di firme di artisti che usavano i titoli latini in spesso anche ritmati già nel dodicesimo secolo era l'artista oppure era il committente in questo caso non Enrico Scroveni ma chi ha ideato il progetto complessivo nel caso di Giotto abbiamo ancora un'inconita cioè se noi trovassimo che quelle la ricerca è bella perché va sempre avanti no? cioè se qualcuno di voi trovasse e oggi anche diciamo la possibilità di mettere in rete testi che una volta non era possibile trovare permette delle capacità illimitate di ricerca in poco tempo eh? se qualcuno di voi trovaste che quei testi che sono adesso stati trascritti in modo più completo dall'ammanato dei titoli viene fuori in un codice che si trova che so io a Wolfenbuttel col nome di un Giovanni Baratisbona a quel punto noi potremmo dire abbiamo trovato l'autore del programma iconografico se noi non troviamo mai un testo di riferimento certo fa strano che non ci sia che appunto anche Giovanni Francesco da Barberino non dica la dipinta Giotto che ha scritto anche i testi dei titoli allora qualcuno potrebbe pensare Giovanni da Barberino che è un poeta era padova in quegli anni può essere lui l'autore delle poesie e quindi staccare i testi cioè quindi vedete com'è difficile un po' no? quanti problemi si aprono ed essendo nel XIV secolo abbiamo poche testimonianze documentarie pur essendo in un contesto molto documentato come quello della Cappella degli Scrovegni che ci permettono di risolvere tutte le questioni ma questo forse è anche un po' il suo fascino grazie direi che possiamo che mancano pochi minuti del prossimo incontro lascia la parola a Francesca così potrà introdurre il prossimo incontro che verrà dopo di noi tutto ringrazio la professoressa per il suo intervento purtroppo il nostro tempo è giunto al termine e invito tutti quanti i ragazzi interessati a seguire la lezione del professor Scucci Marra dell'Università Sapienza di Roma dal titolo Politiche nella paura a un internerario nella storia del pensiero bene allora vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e le domande arrivederci arrivederci grazie ancora arrivederci